Postazione internet, il cucciolo dei nostri opinionisti, il più grande smanettore del mondo, il nipote competente di Pier Mario Sconcerti, Pier Mario Sconcerti. Ciao Avvizzito conduttore. Avvizzito sarà tuo nonno, Cocco B, l'hai capito? Evita gli aggettivi, dici subito se c'è qualcosa su internet. Sembra che ti sia posato in testa un fagiano, che pettina tu hai, guarda cosa sembra. Come sempre i nostri spettatori ogni domenica ci mandano l'UHD dei nostri ospiti e questa settimana ce li ha mandati niente po' di meno che Luca Sardella. Luca Sardella? Allora salutiamo, abbiamo anche dei VIP come spettatori. Eh, Luca Sardella, pensa un po'. Non fare il figo, cioè chiunque è il più famoso di te, ricordatelo, ecco. Comunque ecco l'UHD dei giocatori. Chi abbiamo? Prima Mandelli. Abbiamo l'UHD di Mandelli, come sarà? Cosa può diventare la Mandelli? E poi ha bruscato. Ha bruscato, è il vecchio Elvis, sono curioso di vedere che faccia che ha. E allora, una donna che era...